E' attesa ad ore la sentenza per l'inchiesta Pescara-Porto che vede indagati, lo ricordiamo, l'ex presidente dell'Aggiunta regionale d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, l'ex segretario dell'ufficio di presidenza del governatore Claudio Ruffini, l'avvocato Giuliano Milia, anche il dirigente del comune di Pescara Guido Dezzi ed il dirigente del Genio Civile Vittorio Di Biase. L'ipotesi di reato sono abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. L'inchiesta, come è noto, ruota attorno alla realizzazione del complesso edilizio sul lungomare sud accanto all'ex cofa. Udienza per Pescara-Porto, che cosa è emerso dall'udienza di questa mattina? Beh, stamattina ci sono state le discussioni, cioè sono cominciate le discussioni della difesa e quindi si è avviata l'opera critica demolitiva, diciamo così, o perlomeno tentativo di demolizione delle ragioni che l'accusa posta a base che è stata una richiesta di condanna e quindi si sono evidenziate tutte le ragioni per cui le due ipotesi di reato non possono ritenersi ricorrenti ed in particolare anche le ragioni per le quali in ogni caso non sarebbe configurabile una partecipazione giuridicamente significativa e cioè un concorso del dottor Dezio in questi fatti, perché la prova che è stata raccolta non può implicare una conclusione di questo genere. Al centro della vicenda la variazione della destinazione d'uso da uffici ed alberghi a residenze di due dei tre edifici che avrebbero dovuto essere costruiti dalla solità Pescara-Porto. Queste pressioni non ci sono state, d'altra parte è lo stesso soggetto che è stato autore della nota incriminata, diciamo, che afferma di non avere, come dire, di non avere subito nello scrivere quella nota delle pressioni, nel senso che ciò che ha scritto appartiene alla sua autonoma determinazione. Egli ha scritto ciò che si sentiva di scrivere, questa è stata la posizione del, diciamo, del genio civile, ecco. E questo ci ha dato lo spunto per escludere qualsiasi ipotesi di falsità. Si è dato conto in quella nota degli accertamenti che erano stati fatti, sufficienti, insufficienti, altro discorso, ma dire che si sia voluto far risultare accertamenti più ampi di quelli concretamente fatti, questo non è possibile. E ecco la ragione per la guardia non si può parlare di falso.